Volevamo dare un messaggio perché il problema della violenza contro la donna è un problema innanzitutto di natura culturale quindi come istituzione dobbiamo farci promotori e veicolatori di messaggi positivi e di prevenzione contro questo fenomeno. In questo momento a Genova c'è un fermento perché riteniamo che anche il modo che si ha di comunicare certe informazioni comunque possa fare cultura e possa migliorare e prevenire. È un modo per mettere insieme tutte le anime, le associazioni, le istituzioni che in questo momento stanno collaborando e così di rappresentarlo in un momento importante anche a livello comunicativo comunque far vedere che ci siamo compatte e solidali. Sicuramente il messaggio è di prendere provvedimenti, provvedimenti seri, siamo seriamente intenzionati a vederli questi provvedimenti ovvero a trasformare pene che in questo momento non sono commisurate a ciò che viene effettivamente perpetrato contro le donne pene che invece effettivamente vengano innalzate se vuoi anche certe, la certezza della pena è importante quindi siamo qui a lanciare questo messaggio. Grazie a tutti Grazie